Testimone di una chiesa che i regimi totalitari volevano annientare, ma che nelle sofferenze e nelle persecuzioni continuò la propria missione al servizio del Vangelo. Questa è la figura di Teofilo Matulionis, arcivescovo di Caesha Doris in Lituania, modello di eroismo cristiano vissuto tra il 1873 e il 1962. A fine giugno è divenuto il primo beato martire della Lituania. A presiedere a Vilnius la cerimonia di beatificazione in rappresentanza di Papa Francesco il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Lui è vissuto durante un periodo di dittature, prima sotto la dittatura nazista e poi sotto la dittatura bolscevica comunista e quindi è vissuto praticamente sempre tra una prigione e l'altra, tra un campo di concentramento e dell'altro e spessissimo a domicilio coatto, ma sempre sorvegliato. Quindi tutta la sua vita, lui è morto a 89 anni, però tutta la sua vita l'ha passata tra un carcere e l'altro. E questa, praticamente, questa permanenza nel carcere l'ha debilitato talmente che la sua parabola di vita viene considerata martirium propter erumnas carceris, che significa, nel termine tecnico, significa un martirio per le sofferenze, per le pene del carcere. Teofilo Matulionis fu ordinato sacerdote nel marzo del 1900. Trasferitosi nella città russa di San Pietroburgo, si occupò della costruzione di una nuova chiesa, ma i lavori furono interrotti dalla rivoluzione dell'ottobre 1917. Nel corso della sua vita venne arrestato più volte assieme ad altri religiosi. Nel 1928, con il consenso di Pio XI, venne clandestinamente nominato vescovo e l'anno successivo ricevette l'ordinazione. Le persecuzioni non piegarono mai la sua fede, come spiega Don Audrius Ashtikaitis, rettore del Pontificio Collegio Lituano San Casimiro di Roma. In tutte queste occasioni, in tutte queste persecuzioni, lui rimaneva un uomo di pace, che anche se si doveva soffrire, anche in questa sofferenza, lui sempre stava fedele al Vangelo, diciamo da questa grazia che viene dal Signore da andare avanti anche nella sofferenza, dalla forza di svolgere il suo ministero. Se vediamo per esempio come lui stava anche nelle prigioni, anche lui viveva come prete, diciamo sempre cercava le persone che magari vogliono conversarsi, parlare sul Dio, c'è tutto. Anche questi che lavoravano nel prigione dicevano un uomo veramente straordinario, chissà magari, come la sua eminenza cardinale ha detto sull'Omelia, magari un giorno il Vaticano lo proclamerà beato. Anche in età avanzata e con gravi problemi di salute, si impegnò nell'amministrazione della diocesi di Caixa Doris e nella sistemazione degli affari della Chiesa Lituana, esortando gli amministratori diocesani e i sacerdoti a non scendere a compromessi con il regime. Nel 1962 Giovanni XXIII concesse a Monsignor Matulionis la dignità di arcivescovo, in seguito ad una perquisizione alquanto severa nella casa in cui alloggiava, il 20 agosto 1962 il nuovo beato morì. Di lui rimane un ricordo indelebile in patria e non solo, come evidenzia il cardinale Amato. Un ricordo vivissimo, tant'è vero che alla beatificazione erano presenti 30.000 persone, così diceva la polizia e forse anche di più, persone provenienti sia da tutta la Lituania e sia anche dall'estero, con una partecipazione massiccia anche di tutti i vescovi. erano una cinquantina i vescovi cardinali e 500 sacerdoti e soprattutto i fedeli. Mi ha colpito questa devozione straordinaria e questo ricordo, tant'è vero che la processione delle reliquie è stato un trionfo di fede e quindi è un simbolo di che cosa possa rappresentare un uomo, un uomo di fede contro coloro che opprimono l'umanità. L'esempio di Monsignor Matulioni si resta attualissimo soprattutto per i ragazzi del suo paese. Non a caso la cerimonia di beatificazione è avvenuta nella giornata nazionale dei giovani, come spiega ancora il rettore del Pontificio Collegio Lituano. Ci ha lasciato questo messaggio che nonostante chi sei, piccolo, grande, giovane, vecchio, c'è anche la stessa strada di santità, quindi tu anche puoi essere santo, quindi ognuno deve prendere la sua strada, diciamo, ognuno deve essere al suo posto, al suo luogo, magari nella famiglia, nel lavoro dove tu sei, tu puoi essere, diciamo, un bravo cristiano. Grazie a tutti.